vi siete spaventati eh? bene fate spaventare tutti i vostri amici, parenti, cugini, fratelli tutto quello che avete ma mentre gli fate vedere questo video filmateli con la webcam del computer o con il telefonino con quello che volete e inviate il video a compagnia dello scatolone chiocciola gmail.com così facciamo un video con tutte le reazioni più belle della gente che si è spaventata a morte fino a farsi uscire la bava dalla bocca andate per un vi aspegno happy halloween grazie a tutti